Nome? Davide. Cognome? Policastro. Età? 19 anni. Professione? Studente. Corso di laurea? Scienze della comunicazione. Fil preferito? Ritorno al futuro. Dove abiti? A Genova. Ti piace vivere nella tua città? Non molto perché c'è troppo traffico. Squadra del cuore? Sampdoria. Pratichi sport? Sì. Quali? Basket. Hai dei hobby? L'ultimo è prendere tutti gli autobus di Genova. Dove vorresti vivere? A Toronto. Perché? Ci sono stato e mi è piaciuta. Pro o contro l'aborto? Pro. Credi nel futuro dell'Italia? Sì, senza un po' di ottimismo secondo me non si va da nessuna parte. Che lavoro vorresti fare da grande? Non lo so ancora. Pensi che oggi in Italia si possa trovare lavoro senza una laurea? Sì, conosco un sacco di amici che lavorano senza essere laureati. Quando hai intenzione di laurearti? Il prima possibile. E dopo? Non lo so. Bene, saluta chi vuoi salutare? Ciao. Grazie.